buon salve ragazzi, buon salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo epico disinvoltura anomalo video della skysperm element, se vedete state rivedendo voi, state vedendo tutto ciò dara visuale di Raika, perché se non lo sapete vi andate a guardare il video, perché io ho pubblico, cioè ancora no, però lo pubblicherò, quando uscirà questo video sarà pubblicato circa due settimane, il video in cui dico che è una cosa, però io vi dico la ragione quella vera che Ted White non vuole dire, praticamente io faccio le skill e quindi lei vuole registrare da me per far più contenuti del canale, si andatevi a vedere il video che è meglio, allora in questo episodio dove vogliamo andare? Non so io mi dovrei craftare qualcosina, io mi dovrei craftare dei blocchi, lei riesce a craftare dei blocchi? Io può, io può, andiamo sullo shuttle, no zitto, adesso mi sono accorto che noi abbiamo chiamato shuttle, questa costruzione per tutto l'episodio e alla fine in realtà è semplicemente un aereo, non uno shuttle, quindi niente, siamo idioti. Abbiamo, non abbiamo quella cosa, la, 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 coble, 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 che è che non ci abbiamo? Ci abbiamo tutti i lacchi d'argia? Ma la bella cobblestone mi devo rifare i kit. Scava? Scavo, ma se sta bruciando tutta. Saliamo sui segnali e io secondo lei come faccio a salire? Non so. Mi dia dei blocchi? Non glieli do. No, davvero. Ecco, già vedo uno spawnerli sull'ala dell'aereo? Oh, è quello che ti fa capire che dovevamo andare in un'altra isola. Siamo ancora in tempo a cambiare idea. No, no, prima o poi tanto bisogna andarci quindi andiamo. Meglio poi che prima però mi dicevano al mio paese. Al tuo paese? Sì. Però aspetta, non voglio, non voglio metter... Eh, vaffacu. Oh, ma sono sulla, sulla, sulla fossa del coso. Attento! È morto, è morto, è morto. Corri, 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 corri. Ok, l'ora è sinoppo per ora. Ci sono gli endermite. Che è questo bug? Ok, non è un bug. Sì, è un bug. Lascia stare l'endermite, io salgo sopra. No, mi stai uccidendo. Io? Brutto tutto, non so, di merda, di uno zombie, di merda, di schifo, di merda. Attenzione, attenzione, le skill, le skill. No, lo devo fare, lo devo fare. Uno spaccato, uno spaccato. Sto registrando io, lo dovrei fare io. Un'altra spaccata. Guarda, guarda che spacco che il terzo, cioè il quarto. Sì, il dodicesimo. No, l'altra spaccata, tu ti spaccai, tu ti spaccai. Sì, ci sono dentro. E adesso io entro dentro e rompo tutto. Ah! Ma quanti sono? Ma siete pazzi? Ma pazzi? No, sì, ma tu sei creativo. Ho mezzo cuore. Eh, io, io sono morto. Sono esplosio. No, 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 ho visto, ho visto la cabina. No, ma là c'erano tutti i miei oggetti. Eh, devi portarti solo una spada, tanto. Brutto. Eh, la mia spada è morta. Salve. Salve. Lei non mi conosce. Ho detto che non mi conosce. Ah, non mi ha avvelenato. E volevi, eh? Ci sono delle elitriche che ho scritto just do it. Io spero che non mi ricordo. Così possiamo tornare a casa. Sì, non le usare per tornare a casa. Sì, che è vero. Dato che non è l'isola più alta e tu non ti dica qua, ci sarò lì dietro. Questa è risata da pazzo maniaco. Ma è finito? Sì, è finito. Cioè, possiamo anche prendere un'altra lana volendo, eh? Sì, volendo sì. Aspetta, vai, dammi che la prendo io la lana. Ma un piccone esiste? Un piccone esiste? Sì, è nella cesta. Sì, ma questo era molto easy peasy da non squeezy. Non lo sa. Aspetta, prendi la roba nella cesta. No, no, no. Cosa vuoi fare tu con le elitra? Io non ho le elitra in mano. No, ha le elitra sulla schiena. No, non ce l'ha davvero. Dobbiamo crederci. Non ce l'ha sulla schiena. No. E allora non ce l'ha sulla schiena. No, cavolo, l'ho detto per ora. Quanto è che stiamo registrando? Che io adesso non ho il cosiddetto. Pochissimo. Sarò io. Aspetta, non è questo il colore. Eee, spam. Ho pensato la lana. Aspetta, inquadrami. Sono nove minuti che sono io. Inquadrami, guarda che sei tu che stai dicostando. Oh, cavolo, non ce l'ho. Sei tu che registri. Guarda in su, guarda in su, guarda in su. Guarda in su. Mi sono salvato, io. Cretonto. L'ho fatta apposta. L'ho fatta apposta. Vieni, vieni a salvare. Ma che vieni a salvare? Sberle. No, no. Oh, Gio, qua ci sono i silverfish. Vieni a salvare. Ho le elitra, ho le elitra. Mi butto giù, mi butto giù, Davi. Siccome non ci è bastato prendere una sola lana, ci siamo inoltrati in un'avventura che ci ha fatto rimpiangere di aver scelto questa mappa. Ecco a voi i veri fatti. Perché non... Dove sei, scusa? Io sono alla lava. E alla lava come ci serve? Ok, la capito. Eh, vieni, allora... Invece è sfurtino. Allora, ci serve la lana azzurra, credo. Dove sei passato, scusa? Per l'isola dei cavalli. Cioè, qua, sull'isola dei cavalli. Tu vai verso l'isola dei cavalli, poi. Non mi ricordo più dove sta l'isola dei cavalli. Dietro l'isola delle vanpe. Ah, sì, ho trovato. Quella con i cavalli tarocchi. Eh, non mi ricordo perché. Come si facevano a togliere i cavalli tarocchi. Dalle... Dalle... Che stai facendo da sopra? Non so. Guarda come muore. Donno. Se avessi avuto le dita... Saresti morto. Le dita avrei picchiato. Ma, ma, le dita io le guido. Però... Però non riesco a farle curvare. Eh, no, no. Devi piazzare un blocco di lato perché è una slab. Ti odio. Adesso salgo alla mia maniera. Molto pericolosa visto che qua c'è della lava. Muoviti. Non ho voglia di spaccare i blocchi a mano. Rackia non è mai morto bruciato nella lava. Ah, ho già preso una cosa. La lana? Sì. Davvero? Sì. Che facciamo? Ma dai, ma... Ma siamo troppo bravi in questo episodio. Uffa! Cioè, nel senso... Dai, lo facciamo sto... No! No, è uno stronzo. È uno stronzo. È uno stronzo. Guardalo! Quanto l'odio! Vieni qua. Allora io. Prendi la lana. La? La, prendi la lana. Ops. No. No, 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 no. Amico, non ci siamo capiti. È un pezzo di merda. Io lo vado a cercare a casa, questo. No, ma sai una cosa? Va a finire che è come con... No, no, non si possono rompere. Ok, come facciamo? Vieni, venga, cercare a casa. Ma tu sei un mafioso, io veramente. Bene, Amida fa un po' suggerizioni a stare sopra me. Allora, io potrei fare una cosa, però mi serve un blocco solo. Ho capito che serve. Ho capito che serve. Prenditi della roba, prenditi... No, non servono a quello, non servono a quello che pensi tu. Prenditi tutta sta roba. Prenditi tutta sta roba. Faccio una cosa. Faccio una cosa. No, faccio io il desertino. Oh, che culo! I'm a genius. Qui non ci sta però la lana. Come no? C'è lo smeraldo. Scusa, aspetta, arrivo anch'io. Aspetta, tieni, ti butto un blocco. Non riesco a prenderli. Come no? L'hai preso? Aspetta, qui facciamo una de-piattaforma. Una de-piattaforma. Petrolifera. Ah, perché qui la lava continua a sgorgare. Dammi dei blocchi, dei blocchi. Non finirli, dobbiamo tornare su dopo. No, no, c'è no, non stacca in mezzo. Ok, dammene un po'. Ma questa è lava? Sì, è lava, certo che è lava. Pensavi che era. Non lo so, non mi ispira la lava. Ah, ho sbagliato, sono un idiota. Qua sotto c'è... Niente. Tommy, dove sei? Tappa con i blocchi di quarzo. Sono dietro di te. Proprio a cap. Cioè, che se fossimo in survival i blocchi di quarzo nella chest di non so cosa. Ok, è vero degli stone breaks. Anch'io. Spaccali. Magari da dentro si può passare. Sì, come no. No. Cosa? Sono silverfish. Vaffanciuffolo. C'hai la spada. Eh, ma... No, 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 no. Come sei... Oddio. Ah! Vattene, 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 vattene. No, no. No, 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 no. Oddio. Le proagini che sto facendo. Sì, saranno male a me. Ah, 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 ah. No, ti odio. Dio, sei stato te. Sei stato te. È una prussi. Ok, qui che facciamo? Eh, scendiamo. Che puoi fare? Ancora. Vieni che ti ha tutte le robe. Vieni che ti ha tutte le robe. Qui dentro, qui dentro, a caso, c'è lava. Chissà come mai, vero? Vai, ti ho dato tutta la roba, eh. Sono pronto a scendere. C'è un portale dell'aere. Cosa ti ho detto io? Sono pronto a scendere. Sono pronto a scendere. Aspetta, aspetta. Che è ancora qua. Aspetta, ma ci abbiamo la scala? Ah, no, non ci abbiamo più la scala. Scusa, un secondo, un secondo. C'ho troppo i picconi. Allora, io mi butto qua tutta la roba che non mi serve, perché... No, l'ha pensato a blocco, non l'ha pensato a blocco, non l'ha pensato a blocco, non l'ha pensato a blocco. Piessa. Ma che cos'era sta mafiosità? Sta mafiosità, ah, ho un'idea. No, meglio non farlo. No, 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 l'acqua, no, amico. Non puoi pensare di farlo. Non può, non può. E' tutta cobblessona? Vai. Occhio con l'ho levata. Meglio. Ma in effetti, potevano farlo anche prima? Ma qui è ossidiana invece Vabbè al centro è ossidiana Tanto comunque possiamo passare Portami giù il piccone Che qua Allora sono indeciso se andare nel land No grazie Non andare nel land C'è dei blocchi No No sicuro Portami il mio piccone per favore Non hai blocchi No zero c'è questo blocco di quarzo qua davanti Non so quanto Vediamo un po' di sotto cosa c'è Lava Blocchi invisibili E lava Ma c'è la lana sopra? C'è dice che c'è la lana Eh sì Alla dove sta Sta credo Nel land Eh potrebbe anche essere nel land Però credo che sia un livello più in giù Eh no non c'è più nulla sotto Sicurissimo Eh per forza nel land Aspetta 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 No te li immagini se è nel land veramente Allora siamo di nuovo in rec È passato Stai registrando sì? Forse Ah serio stai registrando? Sì Ok Credo Quindi sono passati millant'anni E intanto no Andiamo a fare il rifornimento Perché abbiamo realizzato Che la lana sta nel land Questo pazzo maniaco di un rigoncello Ci ha messo la lana nel land Ma ti rendi conto? Cioè ma chi è che mette la lana nel land? Invece sì No Sì Quanto scommetti No Che cacchè più chiudiciamo? Eh ci buttiamo 3 2 Ok allora ok Back home Cos'è questa? Lana rossa Ander chest Perché sta cosa? Back home Ma io prendo la lana La lana rossa Ma che cazzo? Oddio 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 Vai nella lana rossa There is the wool Ma che Ma tu sei scio? Ma tu sei malato? Ma questo è malato? Questo è pazzo maniaco Stai la lana Beh però no In realtà non è pazzo maniaco Eh scanzati No 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 Io non esco da qua amico Vai eh guarda Scanzati 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 Vai la vai qua Vai qua Io ti odio Ma vaffanculo Ma vaffanculo brutto merda Ma io ti odio ci sono pure gli scu Sì ma tu sei cretino? Ma tu sei malato mentale L'avevamo finto st'episodio Ma perché devi rompere le palle? Infatti finiamolo per favore Ma io veramente No 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 io finirlo No 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 Sai che se ci vuole qua La droga ci vuole No uno ci scherza Ma tu ci vuole sul serio Maniaco Questo è un pazzo maniaco Sì in effetti Di uno di fortino Potrebbe essere un'idea Qua dentro Vi faccio una cosa Tattica Vado a vedere Struge i command block Vado a vedere Come la lana Quella Quella bella Insomma L'altra La nera Esatto E poi ci fai sapere Se è meglio la nera O la rossa Ma sei scemo Anche io Ci ha dato la cesta Ma che cazzo Aspetta No sto morendo Sto morendo Perché sto morendo Sono morto Con due stack Di blocchi C'è la mia Ma tu dove sei C'è la mia Aspetta Prendi tutta sta roba Intorno a casa Sono nella lana Non so Sembra meno maniacale La faccenda Sembra Usate se ho messo La creative Ma dovevo mettere Stacosa Ok Fammi vedere un po' La nera Va beh Non c'è un cacchio Eh c'è C'è È il laberinto E sempre The silverfish No sono ragni E silverfish Scherzavo Scherzavo Tornalento 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 Ho messo un vasetto Muoio Muoio Muori Eh ma tanto qua L'unico modo è morire Oh yeah Ho un'arma segreta Torna cosa sto facendo Cosa sto facendo Eh 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 Non riesco a pensare Non posso No ma è un laberinto È letteralmente Cito 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 Ho fatto ho fatto Sono arrivata la lana No 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 Sali 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 Ok allora Che cazzo C'era uno spoiler anche là sopra Non muori male va Non sapevo Va bene allora Devo farmi un piccone almeno Anzi due ne faccio Le torce Eh poi Faccio due piccone Tu rimanila Faccio due picconi E due spade Ok ti aspetto Ah ok Tornalento Sei pronto? Allora No non sono pronto Allora Ma perché c'ho scelta Tu seguimi Non lo so Tu seguimi Io so dove sta Dove sta la cosa ok Aspetta aspetta All'occorrenza possiamo Chiuderci da dentro Vai 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 Sì aspetta 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 Ok sei pronto? Sì Vai Che cacchio ma Picchiello 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 Ok Torno dentro Torno dentro È entrato È entrato È chiudilo Chiudi 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 È morto È morto È morto Ok allora Uno l'ho distrutto Che dovrebbe essere quello di Silverfish Quindi non c'è Aspetta 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 Non ti preoccupare la vita Ti serve cibo No ce la ce la Chiudi dopo Ok pronto Vai Seguimi Questo di zombie si può anche saltare Ti ho perso È qua l'uscita È qua è qua è qua è È Tornito Aspetta Tornito Chiudi 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 Eh saltano intanto Chiudi 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 picchiola 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 Come Sei veramente una persona Ignobile Non morire Io non l'ho ucise C'è una spada Oddio Sai cosa c'è dentro la fornace Senti ma senza che io faccio Tutte ste robe stanno Io faccio tipi Rai Non siamo Non siamo una stessa Ma sei proprio stronzo Sai cosa c'è dentro la fornace Eh Una spada con sharpness È la sky Italiano Italiano È la sky element sword Un'affiliatezza è uno Fiamma Knockback due E riparazione Io la prendo La prendo io No la prendo io No tu Allora tu hai perso già Due archi con infinita No ascolta Più quello che Quello che hai perso Con la serie Tre archi con infinita Sì Quindi questa la prendo io Perché tu hai perso fin troppa roba Hai ragione Però ascoltami Io distruggo i mob Intanto le attiro un po' Così di distruggo E io picchio Muoglio con la spada Muoglio con la spada Sì fanne spawnare di più No Genio Oh ma sei cretonto Ho mezzo cuore Ok Bravo Dammi la spada No muori E anche il cibo piccone Dammi spada Cibo piccone È tutto nella cesta È tutto nella cesta Ok allora È solo io dove la roba Ce l'hai un piccone Almeno qualcosa Vai ce l'ho Ce l'ho Spara Vai viene di qua 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 Dove Ecco 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 Ho trovato tutto Ho trovato tutto Però vieni E tu ho perso Mi perdi sempre T'ho visto T'ho visto Stammi dietro T'ho visto T'ho visto Ok allora Sei pronto Io ti proteggo Tu spacca di spawnare Ok Aspetta Io devo stare davanti Dobbiamo spaccare Ragni venenosi Ho rotto I ragni venenosi Stanno qua Vieni Lì Ah no Questo è il silverfish Eh vabbè Era un po' uguale Se tu rompi Vedi rompi Ah ecco Ho trovato l'uscita Credo Aiuto Aiuto Forse ho trovato l'uscita Sì Il parkour Ti te lo fa Amico Tu sei Ma attento Otomi Onidas Proteggimi Muoio Eh non Eh vabbè Scusa Sì Allì adesso Bardiamo Matti Come fai a bardarti Ci proteggiamo C'è il blocco Non so Ok 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 Lavati Anche sotto Anche sotto Anche sotto Ok Ce l'hai te la mia roba Aspetta che i ragni passano qua Ce l'hai Va bene Ok ragazzi Noi Speriamo che Di non morire Cercando Nel prossimo episodio Ora Finiremo nel prossimo episodio Tanto abbiamo già preso quella Della Della La viola Abbiamo fatto un anno e mezzo Però se le lani inizesse a essere così difficili Sì madonna Ma io veramente sto riconciendo Lui secondo me Ha assunto droghe pesanti Ma perché Sul serio ragazzi Questa è la dura È la dura Poi Quell'altra Non ci voglio neanche pensare Vabbè Finiamo con un po' Faccio io E Cosa si dice alla fine Si dice lol Lol No Lasciate la chi iscriviti Commentate Di tutti quelli che conoscete Non conoscete Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Schallatralla Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo